Sono la Mobility Manager Scolastico dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato. Sono stata scelta tra il personale docente e successivamente ho ricevuto la nomina durante il collegio dal dirigente scolastico. Appena avuto la lettera d'incarico, subito mi sono messa in contatto con i referenti di Roma Servizi per la Mobilità, Comitato dei Genitori e Comitato di Quartiere. Ho organizzato e coordinato gli spostamenti casa-scuola, scegliendo dei percorsi. Nel nostro caso ho scelto quattro percorsi, uno per ogni punto cardinale e ad ogni percorso è stato dato un colore, verde, arancione, viola e blu. Ogni percorso ha avuto una sua fermata e ogni fermata ha avuto una palina dello stesso colore del percorso. Poi ho individuato quattro genitori responsabili accompagnatori che si sono identificati indossando dei fratini. Prima dell'8 maggio, la giornata della sperimentazione del progetto Pedibus, sono andata nelle classi per fare una lezione ai bambini sull'importanza del Pedibus e spiegando a loro i vari vantaggi. I bambini sono rimasti tutti entusiasti e contenti della lezione ricevuta. Successivamente ho ritirato tutte le liberatorie sia per le foto che per le riprese video, firmate da parte di tutti i genitori che hanno aderito a tale iniziativa. Invece per il 6 maggio ho organizzato un incontro preliminare informativo, ho invitato i referenti di Roma Servizi per la Mobilità, Comitato di Quartiere, Comitato Genitori e Genitori dei Rappresentanti di Inteclasse. Ho spiegato e ho sensibilizzato tutti alla mobilità sostenibile per ridurre l'inquinamento e il traffico delle auto, soprattutto nelle ore di punta di fronte alla scuola. Finalmente siamo arrivati alla giornata dell'8 maggio, la giornata della sperimentazione del progetto Pedibus. I bambini erano numerosissimi e anche i genitori. C'era la presenza dei referenti di Roma Servizi per la Mobilità, Comitato dei Genitori, Comitato di Quartiere e ognuno ha scelto il proprio percorso in base alla vicinanza della propria abitazione. Tutti siamo partiti allo stesso orario, precisamente alle 8 e ci siamo trovati per le 8 e mezza fuori al plesso del nostro istituto. Ci siamo un attimino raccolti per spiegare l'esperienza e tutti i bambini hanno mostrato interesse e gioia. A fine anno scolastico abbiamo organizzato per la giornata del 6 giugno un Pedibus di riscontro. Ho invitato i referenti di Roma Servizi per la Mobilità, Comitato Genitori, Comitato di Quartiere, tutto il personale docente ed è stato un Pedibus numerosissimo e siamo stati onorati anche dalla presenza della Sindaca Raggi e del Presidente di Roma Servizi per la Mobilità, l'ingegnere Stefano Brinchi, che si sono complimentati per noi ed hanno apprezzato tantissimo il lavoro fatto per la realizzazione del Pedibus. Posso dire che è stato un grande lavoro di squadra, ognuno ha fatto la sua parte affinché il progetto partisse e alla fine abbiamo ottenuto un grandissimo successo e soddisfazione. Ci siamo promessi di ricominciare a settembre e aggiungiamo oltre scuola andata anche ritorno. Vediamo se ci riusciamo e quindi vi saluto e arrivederci a settembre.